Un Bologna-Jove che ci ha regalato un sacco di perle, alcune uniche, altre rare, sicuramente passerà la storia per il rigore da ballerina di danza classica, calciato da Milik, e su di lui aprirei una parentesi, perché poi sono sicuro che la gente si ricorderà solo di quello, ma il rigore a parte ha fatto vedere dei movimenti da grande attaccante, è un gol che ne è la dimostrazione. Due rigori dichiarati e sanzionati arbitrariamente dal VAR, non si capisce perché in una partita di Serie A, in un Bologna-Juventus qualsiasi, il monitor non funzioni, mistero della fede, anche questo fatto insolito. Un primo tempo mostruoso, veramente mostruoso di Skorupski, occasioni, tante, partita frizzantina, ma se la Juventus voleva muovere la classifica ci riesce veramente a metà, perché è vero che arresta la marcia di sconfitte, Lazio-Juwe 2-1, Sassuolo-Juwe 1-0, Juventus-Napoli 0-1, e raccoglie questo pareggio col Bologna, ma decisamente, decisamente, troppo, troppo, poco. Parliamo di questo Bologna-Juwe, parliamo sicuramente, certamente, e adesso, adesso, quando arrivo a sera, che vengo da 3-4 partite viste, inizio a perdere la busta, quindi mi scuserete, e chiedo, chiedo, chiedo Venia, se volete vi invito a lasciare un like, a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti, e domani mattina non finisce qua la mia serata, perché mi metto, analizzeremo la classifica insieme, ve lo programmo per domani mattina, per cui rimanete fidelizzati sul canale, la classifica, ho visto che parla di 6 squadre in 6 punti, ragazzi miei, ecco, c'è veramente, c'è veramente casino, una tonnara, come ha detto il telecronista a fine gara, una tonnara, la lotta per la UEFA Champions League. Ma, riavvolgiamo il nastro su Bologna-Juwe, io non lo so se, anzi, sicuramente, è proprio il motivo principale, l'essere andato sotto ha fatto sì che la Juventus poi giocasse forse un'altra tipologia di gara, è anche vero che, visti i primi minuti, mi sembrava la Juventus che volesse dare, no, quella reazione, subito quel messaggio, no, di non siamo ancora morti, perché onestamente dopo l'ultima partita sulla Juventus alcuni punti interrogativi nascevano, nascevano sicuramente, perché è una squadra che non aveva neanche abbozzato un voler rimettere tutto in gioco. Quello oggi, invece, l'abbiamo visto, oggi c'è stato, anzi, oggi, dopo il gol subito, la Juventus ha creato anche tanto e nel primo tempo solo un mostruoso, e dico veramente mostruoso, Skorupski ci ha messo più volte la pezza, se non sbaglio, 3-4 interventi di grande livello. Sì, 4-4, due tiri di fagioli, il rigore è parato, la grande è parata su Milik, Milik, appunto, che vi dicevo prima, è vero, cacci un rigore che onestamente fa inalberare, fa inalberare, ma prima di ogni cosa, anche qui vedo una mancanza di gerarchia, non capisco perché debba andare a tirare il rigore un giocatore che non ha mai tirato in Serie A, non ha mai tirato un rigore in Serie A, gara delicata, ripeto, viene da tre sconfitte, citando solo la Serie A, non mettendoci anche in mezzo altre robe, e deve andare a Milik, quella palla scotta e in un momento difficile ti vai a inventare quel rigore là, che senso ha onestamente, francamente non me ne capacito, però gesto tecnico a parte, poi, come dicevo prima, io ho visto Milik e nella dimostrazione sul gol, sul gol poi realizzato, quello del pareggio, Milik, che si smarca sempre bene dal difensore avversario, fa sempre un movimento bene a mezzaluno, un po', no, a rientrare, mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto Milik, che è anche, ripeto, nel primo tempo quando colpisce al volo, che trova uno Skorupski sempre pronto e attento, però sicuramente Milik è un attaccante di estremo valore per quanto mi riguarda. Trovato il pareggio e secondo me, ancora una volta, la Juventus mette dalla panchina gente giovani di grande prospettiva, è messo dentro Suley, che è vero che si è divorato un gol clamoroso, però appena sono entrati Suley e Eiling, ragazzi miei, c'è stata quella freschezza, c'è stata quella, proprio quella freschezza, sia atletica, ma credo soprattutto anche leggerezza mentale, no, di fare le giocate spensierate, Eiling ha fatto un paio di robe, la palla appunto per Milik, ma anche quando poi sull'assist di Suley rientra sul destro e calcia alto, lì la Juventus sembrava che potesse andare a trovare la vittoria quest'oggi, invece no, perché poi il Bologna nel secondo tempo è avuta le sue occasioni, il Bologna è una squadra vera, il Bologna è veramente una grande squadra, e te ne accorgi oggi che in una partita dove la Juventus ti rimonta, meritatamente, perché non meritava di stare sotto indubbiamente, ti rimonta, poi è rimasto in gioco il Bologna e ha avuto le sue chance, quella di Ebischer, ma quella di Zirkze, ma quella di Posch, se non sbaglio, di Testa, ha avuto tre o quattro situazioni, quella di Cambiaso che fa un tiro ma forse poteva metterla in mezzo, ha avuto tre o quattro situazioni dove anche il Bologna stessa, addirittura poteva nuovamente portarsi in vantaggio, quindi oggi l'ennesima conferma che il Bologna di Tiavomotta, squadra vera e stanno facendo un gran campionato, stanno dimostrando un gran valore, poi quando entra Zirkze a me piace sempre tanto, 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 tanto sto ragazzo, quindi partita questa sì, andando adesso ad Allegri, che si è decisa sugli episodi, magari l'avesse sbloccata, cioè sull'1-1 avesse segnato la Juve, poteva vincere la Juve, avesse segnato, poteva vincere il Bologna, questa sì, partita sugli episodi, perché di episodi ce ne sono stati, da una parte e dall'altra. Come dicevo prima, una parentesi va aperta anche sul VAR, io non mi capacito di come nel 2023, cioè non nel 2023, questo non c'entra neanche il periodo storico, cioè c'è una partita, c'è Bologna-Venzus, quando scopri che non funziona l'impianto elettrico, che ne so, del monitor, non c'è la possibilità che l'arbitro vada a rivederlo. Quando lo scopri? Alle 9? Quando la partita è in corso? Com'è possibile che non ci sia stata premura prima di mettere le cose a posto? Io ho cose che ripeto, cioè un po' italiane, ecco, diciamo così. Poi per quanto riguarda l'episodio stretto, stretto e cosa dire lì, Orsolini va via Danilo, sembrerebbe che lo tocchi, onestamente non c'è proprio un'immagine chiarissima dove io riesco a capire se devo essere sincero, però ecco perché magari sarebbe stato opportuno che l'arbitro fosse andato al Vare e avesse potuto decidere lui. Invece nada, stessa cosa poi per quanto riguarda Milik, anche se lì onestamente non ci so proprio dubbi, però ripeto, una roba del genere mi sembra molto, molto insolita, non ci sia luce, non ci sia la possibilità di andare a vedere tutto lo schermo. Comunque, ragazzi, abbiamo visto una partita frizzantina, ecco, non mi aspettavo una partita mogia, invece una partita che forse proprio, tra virgolette, grazie a quel rigolo iniziale, abbiamo visto una partita frizzantina, una partita dove ci sono state occasioni, quindi mi sono divertito, dove ne ha avute tantissime, ma veramente tante, nel primo tempo la Juventus, anche nel secondo, e poi nel secondo anche il Bologna, anche se il Bologna anche a fine primo tempo con Barro ha avuto, cioè ci sono state occasioni, ragazzi, ci sono state occasioni, ripeto, la Juventus sta perdendo terreno, e doveva, questa partita in ogni modo, doveva vincerla, vincerla, e mi è sembrata alla fine che non avesse proprio quella brillantezza e quella forza per provarla a vincere, nel momento decisivo, perché nel momento decisivo il Bologna si è fatto di nuovo, si è fatto di nuovo sotto, si è fatto di nuovo sotto, va bene? Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, da Neschio! Ciao!